Presidente Antonio Ravesi, un grande successo l'Appica qui a Rimini? Sì, diciamo che siamo ancora il secondo giorno, però abbiamo avuto un grande, ma grandissimo successo. Non ci aspettavamo nemmeno noi di arrivare a questo punto qua. Ne sono orgoglioso per me e per tutti i nostri soci aggregati alla nostra associazione Appica. Vicepresidente, quanto è importante questa vetrina per voi? È importantissimo, come abbiamo detto prima, siamo arrivati qua a Rimini dopo un grande percorso. È importante sia per noi i soci che siamo all'interno e anche per gli altri colleghi che ancora si devono associare, perché in questo stiamo dimostrando che siamo veramente una realtà di artigiani in sinergia. Lei Presidente spesso dice, unite si può, insieme si vince. Sì, diciamo che il nostro motto è, uniti tutti quanti si vince. È l'unico motto per Ero. Essere, diciamo, tutti in sinergia anche qua con la federazione Gelateri Italiani di cui ci hanno ospitato. Abbiamo sposato questo, idee insieme. Essere qua presenti a Rimini in una vetrina molto importante, perché a noi ci avvalorano di più. Per noi dell'associazione Appica è un punto di partenza. Quali sono stati i prodotti che avete fatto degustare a chi viene qua in Fiera? In questi due giorni abbiamo fatto degustare i cannoli con la ricotta, con la ricotta calabrese, e delle brioche accompagnate con la granita al pistacchio, la granita alle mandorle e una granita al limone, sempre con limoni calabresi. E c'è stato un grandissimo successo sulla granita al limone e sulla granita al pistacchio. E ha fatto vedere la sua arte con la decorazione di queste torte così importanti che l'Eppica, voi come associati Appica? Sì, abbiamo fatto vedere un po' di design insieme all'altra collega, visto che siamo le due donne al momento nell'associazione, e stiamo cercando di farci valere per far vedere quello che possiamo fare, una semplice decorazione o qualcos'altro che possiamo andare a fare, diciamo, in questo salone internazionale che c'è di bella vista.